Red, come hai conosciuto i tuoi amici? Bro, non scordarti di entrare a far parte dello stormo di Pappagalli cliccando sul pulsante iscriviti e clicca sulla campanella per ricevere così novità del mio canale Ah, e ovviamente lascia like a questo video Yahoo! Sono uscite le nuovissime magliette del canale con i disegni tre volte più grandi Entri nello stormo e il gigantesco disegno di tutti noi della Craft University sono ora disponibili nello store fino al 25 aprile Affrettatevi, link in descrizione E amici come mi è benvenuti in questo video E noi ci siamo qua in questo prossimo video dello svilupposto della domenica dove voi farmi farete le domande qua sotto nei commenti con un hashtag svilupposto Ma soprattutto seguitemi su Instagram e su Telegram per non perdervi alcun aggiornamento per quanto riguarda il mio canale E soprattutto iscrivetevi e entrate a far parte dello stormo di Pappagalli E andate a vedere sotto in descrizione le nuovissime magliette della Craft University e dello stormo del Pappagalli Che dire, noi possiamo dare inizio a queste domande Sono 32 domande e cominciamo Alexander1556, sfrutterei mai degli oggetti della 1.13 di Minecraft per un tuo video della Craft University? Allora, dato che io registro la 1.12 non posso usare appunto gli oggetti della 1.13 Perché ho un pacchetto moddato, io uso le mod, quindi non posso usare gli item della 1.13 Però mi piacerebbe davvero tanto, dato che per quello che ho visto implementano le cose del mare E sarebbe veramente bello vedere i pesci Però ci sono le mod per questo Aurora e Love, qual è il tuo cantante preferito? Mi saluti, ciao Aurora Il mio cantante preferito, io ho più che cantanti ho artisti Perché sinceramente io non ascolto musica cantata o musica commerciale Ma ascolto per lo più EDM Ma comunque sia, uno dei tantissimi che mi piace è di artisti, non di cantanti È Nanobi che mi sto sentendo tantissimo Che fa musica hardcore E poi mi sto ascoltando anche, vabbè, Grant, Future Base e Skrillex Batti, VG, F303 Visto che pensate che ero per insieme a morto Metterei un'altra entità, tipo Alien, Entity 3 Vabbè, poi mi ha dato tipo tutte, tutti i mostri presenti su Minecraft Cioè, sei il migliore, grazie tantissimo Batti, comunque, sì, probabilmente nella prossima Chi lo sa? Cioè, nel senso, non lo so neanche io Se nelle prossime stagioni della Craft University o in futuro Ci saranno delle comparse Ma comunque sarebbe veramente una cosa figa Dato che guardate quanto ce n'è Possiamo fare veramente una squadra di ste robe Chiara Caprioli Se qualcuno ti chiedesse se vorresti partecipare ad un film Basato sulla Craft University Accetteresti o rifiuteresti? Beh, prima di tutto vorrei i diritti d'autore Dato che la Craft University è mia, non dovete rompere Mentre se accetterei o rifiuterei Beh, sempre se, appunto, mi pagano Ma credo che per forza non devono pagarmi Per entrare, appunto, a sta cosa Comunque, grazie tantissimo Cristiano Rolando Se avresti avuto un fratello Cosa avresti fatto con lui? Beh, mi sarei divertito tantissimo Solo che sarebbe stato veramente un rompimento Dato che probabilmente dovevo condividere delle cose con lui Come computer Come ad esempio giocare Fra, tipo mia madre che mi diceva Fra vai a giocare con, che ne so, Genno Giovanni Che vuole giocare un po' Sarebbe stato veramente una rottura Però meno male che non c'è Cute anime Se andrai ad Etraland lo farai con la Craft? Beh, ad Etraland Ovvero nel parco acquatico che sta a Catania Non credo proprio Perché d'altronde tutti sono città lontane Non credo che Certo, potremmo organizzarci Però non... Per lo più potremmo andare da qualche parte Però che, appunto, venga vicino a tutti quanti DarkFoxy076 Ma perché quando uno ti chiede di salutarlo tu non lo fai? Perché, semplicemente, io già dal nome dico il nome E quindi sarebbe la stessa cosa di salutarlo Quindi dire il nome però solo che dico saluto Oppure dico ciao e poi seguito dal nome Perché io all'inizio, come hai visto, dico DarkFoxy all'inizio della domanda Quindi non avrebbe appunto senso di salutare di nuovo Di ritire di nuovo una seconda volta il nome JumpyYouTube Verrà il prossimo Games Week? Sì ragazzi, verrà il prossimo Games Week Ci saremo quasi tutti i miei miei della Craft University Non so se magari qualcuno non ci verrà o meno Ma per quello che so La maggior parte di noi ci sarà Come ad esempio io Che ci sono stato anche l'anno scorso al Games Week Vi invito ad andarci a Milano Credo che tipo ai fini di settembre E all'inizio di ottobre, credo Non so, non mi ricordo bene Comunque andateci perché veramente è una fiera bellissima Just2Broad Come hanno reagito i tuoi genitori quando hai raggiunto il 100k? Allora, come hanno reagito i miei genitori? Semplicemente sono stati veramente molto contenti Perché sapevano che li stavo per raggiungere Veramente non potevano credere il loro occhio Però effettivamente sono stati veramente, come dire, fieri di me Daria Ribisi, perché quando fai uno sposto Leggi le domande in ordine alfabetico A seconda del nome di chi fa la domanda Perché semplicemente io le domande Me li tengo scriciottate su una cartella E la cartella ovviamente di Windows Mette in ordine alfabetico Per come appunto Io scrivo i file Quindi in conseguenza andando avanti con le domande Io rispondo in ordine alfabetico La ragazza simpatica, quante ore al gioco Al giorno ci metti per fare una puntata Della Craft University? Allora, se dobbiamo fare però di tutto una tirata Farai probabilmente tutta una giornata Perché il tempo di registrare Poi con gli altri soprattutto L'intero episodio Già se ne vanno parecchie ore Puoi mettere ad editare Se ne va tutta la sera Quindi puoi capire benissimo Che devo mettere Devo stare proprio 24 ore su 24 Al PC Per fare appunto un episodio completo Per questo magari vi faccio aspettare Ma soprattutto vi sto facendo aspettare così tanto tempo E non sto facendo un video alla settimana Perché appunto ci sono C'è la scuola di mezzo E quella è il problema della scuola Che soprattutto siamo alla fine E quindi sono interrogazioni A non finire Compiti E di certo io non voglio studiare D'estate Quindi di conseguenza Mi pare giusto e doveroso Purtroppo dare anche spazio alla scuola Purtroppo è giusto darlo Vedi no La craft oltre ad essere una serie È anche un gruppo Certo che è un gruppo È un gruppo di amici Che ovviamente hanno i batti Becchi fra di loro Un po' si Giusto un po' Ci mettono a litigare Ma poi ritorno tutto come prima Perché sappiamo che Tutti insieme facciamo veramente Una squadra perfetta Che dire Devo dire che Veramente sono contento Che sia andato a creare questo gruppo di amici Ma comunque Più che gruppo di amici Questo è un gruppo di una serie Quindi collaboriamo fra di noi Certo non ci sono Non sono tutti Quei che fanno YouTube Però ovviamente chi ne sta all'interno Che non fa YouTube Ad esempio Marco Che produce musica È comunque anche Uno dei maggiori esponenti Quindi non si tratta Di essere YouTuber Lo scheletro Hai mai difeso qualcuno Prendendo la colpa Di ciò che non avevi fatto Eh sì L'ho fatto diverse volte Eh perché Non lo so Sono troppo Bonaccione Come si dice Dalle mie parti E quindi Non posso farci nulla A volte Mi faccio mettere i piedi Sopra la testa Però ovviamente Per cose che effettivamente Posso trascurare Look at Marco Hai mai pensato di creare Un canale A parte Per la craft Allora Non ci ho mai pensato E non voglio farlo Perché Semplicemente La craft È una serie Come tutte le altre Del mio canale Come lo sposte Che è nato nel mio canale Quindi non avrebbe alcun motivo Spostarle in un altro canale Dato che i diritti Sono sempre i miei Penso Maria Di Pierantonio Ma qual è la ragazza A tuo parere Più bella Della craft university Non posso dirlo Dato che Se ne dico Se dico quel nome Quella si pensa Che io Mi sia innamorato E soprattutto Poi c'è tutta Tutta la schiera Di ragazza Che mi fanno contro Perché mi Poi Tipo dicono Eh perché Io non sono bella Secondo te Tipo poi E quindi sarebbe un problema Quindi meglio Non te ne farei Luravoc Youtube Facebook Instagram Instagram Tutta la vita Ormai Facebook Non lo so Lo vedo più come Un posto dove è pieno Di immagini Per i meme Basta Cioè perché Poi Instagram Per lo più La gente si è spostata Su Instagram Per le instastories Perché appunto È più semplice Rispetto a Facebook A parer mio Quindi tutte queste cose Fanno la differenza Mr. Rick Farei mai una pubblicità Su Youtube Per pubblicizzare La craft university Allora Ci avevo pensato Non so se farlo o meno Ma probabilmente Appena avrò Magari qualcosa Da metterlo Da parte Perché appunto La pubblicità si paga Per pubblicarla Per sponsorizzarla Appunto su qualche video È ovvio che Dove metterlo Quale cosa da parte Quindi Non lo so Magari in futuro Potreste vedere Che ne so All'inizio dei video Di FabiJ La pubblicità Di Sbryzer Mr. Sniffle Sbryzer Ma che youtuber Segui di più Qual è il tuo youtuber Preferito Allora Quello che seguo di più Proprio al momento Credo che sia Human Safari Mentre Anche Barengo È Il diario del russo Questi qua Che trattano Street tweeting Perché a me piace Veramente tanto Vestire a street tour Mentre Youtuber preferito In più in assoluto Credo che sia FabiJ Proprio È molto scontata Questa cosa Però Devo dire che Da cui sto prendendo Veramente esempio Non per la tipologia Ma per lo più Dal comportamento E da come lui Magari Riesce Ad andare avanti Namedia 901 Hai mai pensato Di creare un evento Per incontrare I tuoi iscritti Allora Sì Ovviamente Tipo me l'hanno Spesso Detto È chiesto Sempre Troppe volte Di fare questo Appunto Raduno Però ovviamente La mia paura È quella Perché appunto Sono un ragazzo Veramente timido E vedermi magari Che ragazzi Ci vediamo al centro Di Palermo È veramente Come dire È imbarazzante Però devo dire che Potrebbe andarci Anche perché Non sono da solo Ma ci saranno Anche dei miei amici Ninja Ma dove si Si ordina Il Silver Button Se si ordina Su quale sito Il Silver Button Sì Lo possono ordinare Esclusivamente Quelli che hanno raggiunto Più di 100.000 iscritti Quindi È una cosa proprio Di Youtube Che ti chiederà In futuro Nelle impostazioni Di Youtube Che appunto Eh guarda C'hai il Silver Button Lo vuoi Dammi i tuoi dati Che te lo spediamo Non puoi comprarlo così Sì vabbè Puoi andare a comprare La versione cinese Tarocca Ma con l'originale Ovviamente devi Per forza avere 100.000 iscritti Red Come hai conosciuto I tuoi amici Allora I miei amici Li ho conosciuti Ovvero quelli della Craft University Sono TeamSpeak Qualunque Ho conosciuto Marco Presence E poi da lì Praticamente Abbiamo un po' Fatto il recruiting Di tutti i vari membri Che appunto Servivano per la Craft University E da lì Siamo diventati tutti amici Rossella Baracco Perché non c'è più Tia Nella Craft University Comunque ti stimo Grazie Rossella No non è che non c'è più Tia Che Tia è scomparsa E se hai visto la serie E seguito la serie Saprai sicuramente Che appunto è scomparsa Perché Non se La stiamo ancora cercando E in futuro Avremo delle novità Salvatore Di Simone Perché non fai vedere più All'Aki Allora No in realtà L'Aki c'è sempre Cioè Proprio adesso Che me lo sto chiedendo Non c'è Proprio guarda caso Perché L'Aki di solito C'è sempre quando registro Perché Alla fine Se io parlo Non fa casino Perché si mette lì Si appolla e dorme Oppure fa Le palline con la carta Perché ha di sotto la carta Per la Per la merda Non lo sto facendo più vedere Perché magari Sto dando spazi ad altri video Ma comunque Se volete altri video Con l'Aki Basta votare Qua sopra A destra Bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come se mi vi do Lascia il polline in su Arriviamo con questo video Almeno a 2000 like Scrivetemi in questo video Nei commenti Nella domanda Da fare O per hashtag risposte E soprattutto Seguitemi su Instagram E su Instagram Non perdevi alcun aggiornamento Per quanto riguarda il mio canale E iscrivetevi E entrate a far parte Dello stormo Di Pappagalli Che dire Noi ci vediamo In un prossimo E un nuovissimo Video Ci si becca Noi ci vediamo